Ciao ragazzi, sono Gian Zalone, insegnante di batteria presso la GM Drum School di Gigi Morello, sede di Torino. Ringrazio Drumset Magazine per avermi dato la possibilità di proporvi l'esercizio di questo mese che prevede l'utilizzo della doppia cassa o del doppio pedale. Andremo ad utilizzare delle semplicissime figure ritmiche creando dei veri e propri pattern di batteria che potrete utilizzare a vostro piacimento. Le figure sono semplici sedicesimi suonati a 150 bpm, non abbiate paura ragazzi sono tranquillamente fattibili, basta solamente un po' di pratica, un po' di pazienza e tanto, tanto, tanto studio. Ok? Mi raccomando ragazzi studiate, 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 non mi stancherò mai di dirlo anche ai miei allievi e soprattutto non mollate mai. Ok? Io vi ringrazio, vi saluto e niente, alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti